Il verde delle foglie, il profumo e i colori variegati dei fiori abbelliscono e decorano gli ambienti interni ed esterni, da un balcone alla fioriera davanti casa, dal giardino ad un angolo della stanza. Ogni pianta ha le proprie caratteristiche ed esigenze e dunque non è sempre facile prendersene cura, soprattutto per chi non ha il pollice verde. Generalmente però la luce è l'elemento che aiuta le piante a sopravvivere anche in estate con le calde temperature e se si va via per qualche giorno per le vacanze. Sarebbe questo infatti il segreto secondo l'esperto Gianluca Mico. Le piante che sono a casa già da tempo e che avete collaudato, di mantenere lo stesso ritmo, di non cambiarlo. La cosa importante e fondamentale è la luce, quanto più possibile lasciare la luce, quindi tapparelle veneziane, serrande aperte, quanto più possibile. E poi le ineffature vanno fatte a cadenza settimanale o quindicinali oppure mensili. Non mettere bottiglie sotto sopra, non mettere bacinelle, non riempire sottovasi, perché in quel caso quando c'è un eccesso d'acqua, l'eccesso d'acqua può danneggiare ulteriormente l'apparato radicale ed si ottiene un effetto contrario. Da una mancanza d'acqua la pianta si può recuperare subito, perché se tornate a casa e trovate la pianta un po' floscia, moscia, mettendo l'acqua la pianta si riprende. Se tornate a casa e non lo vedete, perché non è evidente, non si vede, l'apparato radicale è danneggiato, voi caricate ancora acqua, questo crea marciume e crea proprio la rottura delle fibre e delle radici. E col tempo la pianta può anche morire. Invece se c'è la luce, la pianta svolge il regolare procedimento, quindi respira, produce ossigeno, immagazzina energia, manda le radici, le radici mandano la limpa alla pianta, quindi completa il ciclo naturale e va bene. L'unica cosa, come dicevo poco fa, non l'eccesso d'acqua. Mancanza d'acqua la puoi recuperare, ma l'eccesso no. All'esterno basta invece fare affidamento ad un sistema di irrigazione. A un rubinetto si applica una centralina a batteria, viene messo un tubo di politilene e in corrispondenza di ogni pianta viene collegato un gocciolatoio. In relazione, in funzione alle dimensioni della pianta, il gocciolatoio darà una quantità di acqua che fa sì che possa soddisfare il bisogno giornaliero della pianta.